Tra le due fermate ci sono circa 700 metri, ma i ragazzi che prendono il pullman a Ognia pagano 85 euro in più di abbonamento rispetto ai compagni che salgono a Villa. La prima cittadina scrive a regione e provincia. Anche in Val di Scalve veicoli sotto controllo al via l'intervento della comunità montana per posizionare ai varchi d'accesso telecamere in grado di rilevare le targhe. A Costa Volpino nasce il Giardino degli Abbracci, uno spazio dedicato alle persone con disabilità realizzato grazie alla sensibilità di aziende e cittadini del paese. Domenica alle 16 l'inaugurazione. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli. Tra una fermata e l'altra ci sono 700 metri più o meno, ma sono 700 metri che a fine anno costano 85 euro. Tanto devono pagare in più i ragazzi che prendono il pullman a Ognia rispetto ai compagni che invece salgono a Villa. La destinazione è la stessa per tutti, Clusone, identico anche il comune di partenza, Villa Donia. La prima cittadina, Angela Bellini, ha allora deciso di scrivere agli enti competenti. Il sindaco di Villa Donia, Angela Bellini, in questi giorni ha scritto a Regione, Provincia e Società dei Trasporti per segnalare una situazione che si verifica da diversi anni con gli abbonamenti scolastici. Che cosa succede? Succede che gli stessi studenti del comune di Villa Donia, a seconda del dove partono con il servizio di trasporto, sono obbligati a pagare tariffe diverse. Questo non ci sembra giusto, perché le due fermate distano massimo 700 metri. Per cui 85 euro di differenza sul costo dell'abbonamento è un importo sostanziale. E soprattutto in questo periodo in cui le famiglie evidentemente possono essere anche in difficoltà o comunque fanno fatica, una differenza del genere pesa parecchio sui bilanci familiari. Infatti i ragazzi che partono da Villa pagano l'abbonamento annuale studenti 295 euro, quelli che invece salgono alla fermata che va verso Nasolino devono spendere 380 euro. E questa cosa a noi non sembra giusta. I genitori ci hanno segnalato ancora che a fronte di piccoli aumenti evidentemente la differenza è sempre sostanziale. E allora abbiamo detto no, quest'anno ci proviamo. Abbiamo chiesto appunto agli enti preposti di rivedere i costi di questa tratta che evidentemente non arriva fino a oltre essenda alta. e per una differenza di distanza tra le due fermate ci sembra un importo eccessivo. Stiamo parlando naturalmente della linea che porta a Clusone. Esatto. I ragazzi che da Villa Donia salgono a Clusone per le scuole e poi qualcuno va oltre, va a Gazzaniga, va a Bergamo, eccetera. Però di fatto questa è la tratta che fa Villa Donia-Clusone. E' una discriminazione nei confronti di alcuni studenti solo perché abitano nella parte alta del paese. Quindi quello che chiedete è di uniformare gli abbonamenti? Esatto. Evidentemente è a ribasso. Per cui dico se il costo dell'abbonamento studente da Villa Donia-Clusone è 295 euro all'anno, deve restare tale indipendentemente dal dove un ragazzo sale sul pullman. Resto in attesa comunque che gli organi preposti mi contattino, i quali evidentemente sforrò al meglio questa situazione e mi auguro che rivedano comunque le tratte e i costi. Cambiamo argomento. Veicoli sotto controllo anche in Val di Scalve. Si sta lavorando per posizionare ai varchi d'accesso le telecamere in grado di rilevare le targhe. L'intervento è della comunità montana. Abbiamo intervistato il presidente Guido Giudici. Anche in Val di Scalve ci saranno le telecamere che controlleranno i veicoli che entrano nel territorio. Un impianto di videosorveglianza. Tra l'altro gli interventi sono partiti proprio in questi giorni. Che cosa avete pensato? Noi abbiamo già pensato da tempo. L'impianto di videosorveglianza in Val di Scalve è che ogni comune è collegato con la videosorveglianza che è allocata in comunità montana che è sede dalla polizia locale. Però la logica ci diceva che per controllare gli ingressi e le uscite dalla valle andavano messi le cosiddette telecamere a cancello. Cioè al Dezzo si entra in Val di Scalve e si esce. Per cui i punti sono o a Colere, al Castello di Colere si entra e si esce. Perché poi altre uscite ci sono nel passo dal Vivione ma non ci sono altre entrate e uscite. Quindi abbiamo pensato di mettere sotto controllo quella che è tutta la situazione della valle per quanto riguarda l'afflusso. Quindi avere una chiara visione di chi entra e che cosa entra. Tenuto conto che questa aggiunta di questo nuovo servizio che ci consente di vedere soprattutto come stanno montando anche altre telecamere in giro per la Bergamasca per capire i veicoli, la targa dei veicoli che entra, se è rubata o no, se è assicurata o no. E poi se esiscono strani traffici e quindi per del sotto controllo anche eventuali traffici illeciti. Vengono montate otto telecamere di cui due al Dezzo e due al Castello di Colere poi un'altra viene aggiunta a Vibinore e due a Schilpare e un'altra a Zona. E tutto viene centralizzato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se una macchina entra la telecamera riprende il numero di targa controlla con l'anagrafe nazionale se la situazione della targa è tale che la macchina sia rubata o no, se sia regolare o no e soprattutto verrà poi controllata per quanto riguarda il servizio, se è assicurata o no. Quindi avere una chiara situazione. Se i vigili sono in servizio, il computer invia la comunicazione, il telefonino dei vigili che sta succedendo, cosa di questo genere. Se non sono in servizio avviene una registrazione. Per cui quando entrano in servizio, dopo alcune ore, il giorno dopo, controllano le eventuali note che il computer mette a disposizione di cosa è successo. Poi ci consente anche di vedere un attimino le situazioni d'emergenza, di capire un attimino, di tenere un attimino sotto controllo tutta la situazione. Abbiamo avuto un piccolo inghippo perché abbiamo chiesto di partecipare al finanziamento regionale per quanto riguarda la sicurezza, il finanziamento c'era, ma siamo entrati in un interburocratico senza fondo, senza fine. Perché? Perché la legge diceva che comunità montana no, comuni sì. Però i comuni sì, posso far domanda, però se hanno i vigili. Ma i val di scavo i vigili ha solo la comunità, i comuni non ce l'hanno. Quindi non avevamo titolo, neanche far fare la domanda a un comune senza vigili non si poteva. Alla fine abbiamo dovuto utilizzare soldi nostri, praticamente ci siamo arrangiati. Quindi con 45 mila euro riusciamo a coprire tutto l'intervento che sta in questi giorni, viene realizzato in questi giorni. Poi vedremo un attimino. Tenuto conto, i nostri impianti sono collegati a ponti radio. Ci sono quattro ponti radio con doppia andata e ritorno che si interfacciano. Voi dite, ma c'è internet? Sì c'è internet, ma in Val di Scalva internet funziona ancora, dovrà funzionare più che funziona. Quindi le trasmissioni non erano corrette. Allora abbiamo dovuto usare i ponti radio che ci consentono, di cui troviamo un antenna su all'Albani, tanto per dire un attimino in maniera tale, che ci sono dei rimandi da un paese all'altro, dei ponti, in maniera che abbiamo, almeno, salvo ogni tanto qualche temporale o anche fulmine che ci sbaraglia un attimino qualche ponte, però direi che tutto sommato funziona abbastanza bene. A Costa Volpino nasce il Giardino degli Abbracci, uno spazio dedicato alle persone con disabilità realizzato grazie alla sensibilità di aziende e cittadini del paese. Domenica alle 16 l'inaugurazione. Il servizio è di Andrea Filisetti. Qui alle sue spalle il Giardino degli Abbracci. A che punto siamo? Ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo, manca solamente la consegna di una giostrina, ma per motivi tecnici non riusciremo ad installarla in tempo per l'inaugurazione, ma comunque abbiamo deciso di procedere ugualmente per sfruttare almeno gli ultimi mesi di temperature emiti. Allora, può un po' spiegarci quale attrezzatura avete inserito? All'interno del Giardino degli Abbracci è stata posizionata un'altalena che permetterà ai ragazzi in carrozzina di salire direttamente con la carrozzina sulla struttura che li potrà ospitare e quindi per poter consentire a loro di dondolarsi in completa autonomia. Sono stati inseriti un boschetto odoroso, una Little Free Library dove sarà possibile accedere a delle riviste che parleranno proprio anche di disabilità e dove potremo trovare anche dei libri scritti in braille. Abbiamo un piccolo boschetto odoroso che accoglie delle piante aromatiche e delle pietre sulle quali sono stati scolpiti dei visi. Il gioco per i ragazzi sarà quello di individuare i visi scolpiti attraverso il tatto. E poi c'è anche qualcosa che produce rumori, suoni. Esattamente, abbiamo una sorta di xilofono verticale, una specie di piccolo strumento a canne che potrà essere appunto suonato e in questo caso si potrà fare un po' di musicoterapia. Ecco, l'amministrazione quindi ha voluto dimostrare una certa sensibilità verso il mondo delle disabilità. Esattamente, il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di sicure dell'amministrazione comunale, ma tengo sempre a precisare alla volontà e alla cittadinanza attiva di Costa Volpino perché tutta l'opera è stata completamente finanziata da aziende e da privati. Mi piace sempre fare l'esempio di una ragazzina che ha rinunciato insieme alla famiglia alle bomboniere della Cresima e al posto di utilizzare questi soldi per acquistare le bomboniere ha comprato un gioco che è appunto l'oxilofono verticale e ha deciso di donarlo all'interno del nostro giardino. Quindi il pezzo di terreno che ospita il giardino e che fisicamente divide la Domus Civica che è la sede dei servizi sociali e delle associazioni dal palazzo municipale diventa un punto di unione. Da qui proprio l'idea di chiamarlo Giardino degli Abracci a seguito di un contatto con una vecchia compagna di liceo che proprio nello scorso mese di dicembre è venuta da Clusone a proporre il Free Ags sul territorio di Costa Volpino. Ecco ricordiamo che anche sulle targhe è presente proprio la scritta in braille che traduce quanto è scritto. Infatti ogni targa che illustra e presenta il percorso da seguire è stata tradotta anche in braille e anche una parte della poesia che appunto parla di abbraccio che è stata scritta da Federica Ferrari è stata ritradotta in braille. Questa collaborazione per il giardino degli abbracci è avvenuta proprio perché come ha introdotto l'assessore io e lui eravamo compagni di classe al liceo e ci siamo rincontrati dopo vent'anni e abbiamo deciso insieme di portare avanti questo progetto. Patrick mi ha chiesto di scrivere una poesia sugli abbracci che è quella che vedete alle mie spalle che in parte è stata anche tradotta in braille. Il giardino degli abbracci vuole appunto accogliere nella società cioè vuole proprio far capire che bisogna essere aperti al diverso e è una cosa, l'abbraccio è un gesto, come dicono la mia proesia è un gesto naturale che però è un gesto che comunque ha il suo perché. Voltiamo pagina, un altro storico stabilimento della Val Seriana si appresta a chiudere per l'Olsa di Albino si prospetta un trasferimento nel milanese ci dice tutto Vladimir Lazzarini. La Olsa S.p.a. di Albino, azienda specializzata in impianti chimici industriali per i settori farmaceutico e cosmetico ha comunicato ai lavoratori la decisione di chiudere il sito bergamasco e di trasferire l'attività e i 37 addetti in una nuova sede a Settala in provincia di Milano. I dipendenti si sono già riuniti in assemblea con i rappresentanti sindacali si è deciso di attendere l'esito dell'incontro fissato per martedì prossimo con l'azienda prima di prendere qualsiasi iniziativa. Damiano Bettoni della Wilm Will di Bergamo ha spiegato che la Olsa ha comunicato di aver cercato un altro capannone nella zona di Albino ma che non è stato trovato mentre a Settala l'azienda ha un terreno sul quale entro aprile conta di realizzare una nuova sede vicino ad un altro suo stabilimento con cui creare sinergie strategiche. Marco Fiorina della Fime Cisla di Bergamo precisa che il sindacato vuole trattare con l'azienda le condizioni per tutelare i lavoratori come il trasporto o gli orari di lavoro. Ci fermiamo per una pausa al rientro parleremo del settenario della Dolorata che si apre a Clusone e poi andremo a Gandino per la mostra delle opere di Franco Radici e poi da questa sera torna l'appuntamento con Erbe e Salute e i consigli della dottoressa Agostini. A tra poco. Ricominciamo con il telegiornale prendono il via domani sera e si concluderanno domenica 20 settembre a Clusone le celebrazioni per il settenario della Dolorata. Per la prima volta non si potrà ammirare l'immagine con Maria, il Cristo deposto. L'altare è infatti ancora avvolto dalle impalcature che celano le operazioni di restauro. La comunità di Clusone si appresta a vivere il settenario della Dolorata Un appuntamento tanto atteso da tutta la nostra comunità un appuntamento che viviamo in questo santuario il santuario della Madonna del Paradiso conosciuto certo anche nei paesi intorno a noi come un luogo di grande devozione nei confronti di Maria, la Vergine addolorata. Iniziamo domani sera, sabato con un'elevazione musicale, una meditazione musicale membra Jesu Christi nel quale sia il coro come l'orchestra pian piano ci portano alla scoperta e alla meditazione sui vari membra del Crucifisso. Poi domenica iniziamo, entriamo nel vivo delle celebrazioni con la Santa Messa e poi ogni sera le varie celebrazioni fino a domenica, domenica 20 dove veramente sarà un po' il centro di tutta la celebrazione. Un'occasione per iniziare anche il cammino dell'anno pastorale come in ogni parrocchia anche la nostra si appresta a iniziare questo percorso che ci porterà da adesso fino a giugno dell'anno prossimo. Per la prima volta credo non celebriamo la festa senza poter ammirare l'affresco dell'addolorata posto sull'altare che c'è alle mie spalle che attualmente è appunto coperto perché sono in via di realizzazione i restauri. In un primo tempo avevamo previsto per questi giorni l'inaugurazione del restauro dell'affresco così anche della grande cornice che lo circonda ma durante lo svolgimento dei lavori sono emersi altri affreschi per cui questo ha un momentino rallentato l'opera. Comunque in sostituzione dell'affresco originale che di fronte al quale tanta gente ha pregato e prega c'è quel quadro, il quadro di un autore del 1600 che comunque rappresenta l'addolorata col Cristo sulle ginocchia e due santi al fianco di Maria e di Gesù. Certamente credo non poter vedere il quadro che fermerà la nostra devozione ma questo sicuramente sarà ugualmente una grande occasione di fede e di devozione a Maria per tutta la nostra comunità. Penso sia importante questo santuario proprio anche come già dicevo per i paesi, le parrocchie intorno che qui sicuramente in varie occasioni si ritrovano per onorare la madre del Signore. Quindi come anche in altre parrocchie questo inizio del nuovo anno pastorale sia davvero sotto lo sguardo di Maria la Vergine che ci accompagna poi a scoprire sempre meglio la figura di Gesù nel corso del cammino del nuovo anno che quest'anno la nostra diocesi ha dedicato alla riscoperta e alla vita soprattutto nella carità. Accanto al quadro qui esposto possiamo già vedere alcuni angioletti che fanno parte della grande cornice se li abbiamo voluti collocare qui insieme poi anche a una statua che rappresenta la carità li abbiamo voluti collocare qui per far vedere appunto come la cornice viene poi pienamente valorizzata e riscoperta attraverso un'opera sapiente di restauro. C'è la Gandino di una volta nelle opere di Franco Radici esposte al convento delle Suore Orsoline la mostra resterà aperta fino al 31 ottobre tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 18 domenica 13 settembre è in programma anche una visita guidata al convento con possibilità di accedere alla casa natale del pittore. Nell'auditorium delle Suore Orsoline di Gandino è allestita una mostra dedicata alle opere di Franco Radici nel decimo anniversario della morte anzitutto chi era Franco Radici? Franco Radici era nato a Gandino nel 1930 ha vissuto per un lungo periodo a Gandino poi si è trasferito a Bergamo dove ha cominciato ad operare sia come professore e poi di disegno e poi anche facendo parte del CAI per il quale ha contribuito moltissimo ad illustrare interventi vari soprattutto di carattere bergamasco nell'area bergamasca ma anche ricordando gli eventi che il CAI aveva portato avanti nelle varie parti del mondo quindi in Asia, in America, in Africa quindi il CAI è stato per lui una scuola estremamente importante perché ha potuto conoscere a fondo la realtà della nostra zona prevalentemente dicevo dell'ambito aerobico. Quindi professore di disegno pittore molto attento lo abbiamo detto ai nostri luoghi alla nostra montagna e proprio qui a Gandino per questa mostra avete voluto fare una scelta particolare Sì, dunque le opere che noi abbiamo individuato di Franco Radici sono tantissime e quindi è stato gioco forza intervenire settorializzando il lavoro e in particolare richiamando le esperienze che lui ha dedicato a Gandino in particolare quindi ai luoghi proprio della cittadina ma proprio anche anche alla realtà montane con le cascine con le baite e con i palazzi ovviamente quindi è una scelta voluta perché era troppo importante l'intervento che lui ha fatto a livello generale Cosa ha Franco Radici di particolare? Non è come dice lui un artista un pittore è un documentarista e lui si chiama addirittura cartolinesco si definisce probabilmente lo fa con una maniera un pochettino polemica perché i disegni che lui fa sono sì una riproposizione fedele dell'ambiente ma ha sempre quel senso di poetico che dà qualcosa di più all'opera rappresentata se voi guardate tutte le varie espressioni della pittura sua sono cariche di un qualcosa che normalmente la fotografia non dà però è anche importante perché lui ci dà un documento di quello che era la realtà locale non solo nostra ma proprio della realtà anche della bergamasca di opere che ormai non ci sono più e quindi è uno che ci fa riflettere perché quanto noi abbiamo perso in questi ultimi 40 anni non ce lo troveremo più e questo è una riflessione che porta a scoprire il senso profondo del suo messaggio proiettandoci proprio in un futuro che deve in qualche maniera vedere la stratificazione storica per dare qualcosa di nuovo questo qui è il messaggio fondamentale per me riprendono da questa sera gli appuntamenti con la dottoressa Antonella Agostini e la rubrica Erbe e Salute Buonasera a tutti e ben ritrovati dopo la pausa estiva spero che aviate passato bene questa calda estate ed è ora di tirare le somme con le conseguenze di questo eccessivo caldo perché perché vorrei parlarvi della caduta dei capelli e una delle cause potrebbe essere stato l'eccessivo calore e quindi l'eccessiva sudorazione a livello del nostro cuoio capelluto è un periodo praticamente dove facciamo sempre i conti in questa stagione con la caduta dei capelli perché ci può essere chi perde i capelli per cambio stagionale oppure perché siamo stanchi affaticati oppure perché è un fattore ereditario o per sbalzi ormonali come per esempio uomini e donne che vanno rispettivamente in andropausa e menopausa per quanto riguarda i rimedi naturali che possiamo utilizzare sappiate che ne esistono molteplici abbiamo per esempio la biogenina la biogenina è un prodotto che viene utilizzato spesso negli integratori per la caduta dei capelli perché è molto attivo sulla papilla dermica dove va ad ancorarsi il bulbo del nostro capello e lo nutre in maniera molto attiva molto importante l'uso della biogenina in tutti quei prodotti che vengono utilizzati per la caduta dei capelli nelle donne in menopausa non di meno è lo zinco che entra nella sintesi della cheratina che è quella che dà praticamente struttura al capello in cima alla lista poi ci sono due aminoacidi che sono la metionina e la cistina sono gli aminoacidi solforati e servono proprio per ancorare il capello al nostro bulbo quindi vanno proprio a bloccare la caduta per quanto riguarda l'uomo in maniera più specifica possiamo utilizzare per esempio nel periodo di andropausa oppure quando abbiamo un diradamento importante le gocce di sequoia gigantea è un macerato che si somministra una o due volte al giorno per uso orale e dà un buon aiuto per la donna invece quando abbiamo un diradamento in caso di perdita ormonale possiamo utilizzare la tintura madre di salvia e il rosmarino in questo caso possiamo usarla sia per uso locale quindi facendo delle frizioni oppure per uso orale perché sono ricche entrambe di fitoormoni sono tutti prodotti naturali che potete utilizzare diciamo senza effetti collaterali se volete partecipare in questo mese in tutte le farmacie che hanno aderito all'iniziativa potete fare gratuitamente la prova del capello un test semplice che va praticamente a valutare la vostra situazione specifica in modo da non acquistare solo perché c'è la pubblicità ma acquistare in maniera seria e consapevole della vostra situazione potete rivolgervi a tutte le farmacie che hanno aderito all'iniziativa è completamente gratuito arrivederci e buona serata ci fermiamo un attimo e poi la parte finale del TG verso la fine con i programmi in onda su Antenna 2 questa sera sul nostro canale principale alle 20 il programma di motori griglia di partenza alle 22.15 Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del nostro TG e alle 23.15 Decoder il canale News 218 alle 21.30 il telegiornale alle 22.10 un servizio di Target questa sera la mostra di Perri Bianchini a Pisogne il canale sportivo 628 alle 20.30 la partita amichevole di basket femminile tra la Fassi Albino e la Oregon University e alle 22.30 il programma di motori griglia di partenza proseguiamo con l'almanacco domani è sabato 12 settembre il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.44 la luna la luna è nuova sorge alle 6 e tramonta alle 19.12 la chiesa ricorda il santissimo nome di Maria chiudiamo con le previsioni del tempo domani su alpi e prealpi lombarde cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso ma senza precipitazioni temperature in aumento le massime e anche per questa edizione è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito